Ma non è ministro Toninelli? Come non è ministro Toninelli? Non è ministro Toninelli. Lo sa usare o ci ha lavorato, insomma, è stata parte del suo lavoro in passato. Ti viene in mente qualcosa? Siri? Troppo e troppi, devo capire. Secondo indizio, però siete un po' lenti, devo dire sinceramente. Una divisa. Oh, qui c'è la divisa. Toninelli. Bip, errore. Ma non è ministro Toninelli? Come non è ministro Toninelli? Ma non è ministro Toninelli? Come non è ministro Toninelli? Come non è ministro? C'è stato un... Perché era carabiniere, solo per questo. No, non è ministro Toninelli. È ministro Toninelli? Certo, è l'infrastruttura, sì. È ministro Toninelli? Certo, è l'infrastruttura, sì. Sì, le mie strutture ci... Sì, le mie strutture ci... Errore. Ma non è ministro Toninelli. Come non è ministro? Non è ministro. Non è Toninelli. Come non è ministro? C'è stato un...